Amiche e amici di Rossini TV, buongiorno e bentrovati in visione e all'ascolto della nostra rassegna stampa. Rossini TV, buongiorno Rossini. Siamo in diretta, oggi è mercoledì 14 agosto, siamo alla vigilia del capodanno dell'estate, del ferragosto e andiamo come ogni mattina a dare un'occhiata ai titoli dei quotidiani con l'idea come sempre di invogliarvi poi a acquistare il vostro quotidiano preferito e a sviscerare, ad andare ad approfondire. Ma prima diamo un'occhiata al meteo della giornata che come siamo abituati ormai da molti giorni è definito buono, situazione caldo e afa, non mollano la presa sulle marche, da segnalare la formazione di locali temporali pomeridiani sulle aree interne, i venti sulle coste medio da est, sull'interno medio da sud sud ovest, temperature stabili, insomma chi è abituato a queste giornate a queste temperature sa che ormai la cosa è ricorrente e da parte mia io mi auguro che poi si vada avanti ancora un pochino al di là delle temperature affose perché il bel tempo d'estate è meglio del brutto tempo, è banale dirlo ma insomma allora vedete anche la grafica che ci dà la situazione al mattino pomeriggio, questi annuvolamenti che possono creare questi che si chiamano temporali da calore nel pomeriggio sull'Appennino e nel pomeriggio è anche in serata e poi dopo ritorna il bel tempo e si preannuncia probabilmente una buona giornata anche per domani diamo uno sguardo alla webcam che è puntata su una radiosissima mattinata in Baia Flaminia a Pesaro la state vedendo, chiaramente ancora deserta ma si animerà fra un po' anche se poi queste sarebbero le ore migliori tra l'altro per riuscire a frequentare la spiaggia prima appunto dell'arrivo di quella che si chiama la Canicola e allora abbiamo altro o no? Possiamo entrare nel vivo e dare il solito sguardo panoramico alle due prime pagine del Corriere Adriatico tornato in edicola oggi dopo il blackout di ieri un blackout che tra l'altro il Corriere Adriatico stesso attribuisce a un problema tecnico della rete Fastweb che ha impedito di realizzare tutto quello che ha a che fare con le loro attività redazionali Corriere Adriatico e il resto del Carlino hanno in comune, e questa è una cosa che faccio di solito solo due titoli perché per il resto si diversificano Rocca mai più chiusa e poi c'è stata una tragedia in realtà era un incidente a Senigallia ma in qualche modo riescono a motivare anche il discorso pesarese perché il conducente della macchina è del pesarese e la stessa cosa fa il resto del Carlino addirittura con l'infografica che riporta i visi dei due ciclisti che sono stati investiti e ahimè uccisi appunto a Senigallia anche il Carlino dedica ovviamente il titolone a Rocca Costanza che torna a emozionare poi naturalmente c'è spazio per tanto altro e andiamo a scoprire per che cosa e cominciamo col Corriere Adriatico visto che ieri appunto non era in edicola vedete qua c'è un richiamo Blackout Fastweb il Corriere Adriatico ieri non è uscito lo dicono ai loro lettori che se ne erano probabilmente anche accorti e spiegano appunto che c'è questo problema c'è stato questo problema legato alla rete Fastweb ormai probabilmente lo sappiamo tutto dipende da internet e anche le nostre attività private figuriamoci le attività di un quotidiano allora Rocca mai più chiusa a visite per la prima volta allo storico complesso Ciceroni il sindaco Biancani e il vice Vimini allo studio le sale dove allestire il museo Fo-Rame sarà difficile però organizzare spettacoli su questo degli spettacoli ci sono vari punti e vari ritorni vedremo qualcuno dice speriamo di farcela qualcuno è un po' più negativo sull'idea però insomma c'è dell'interesse fortissimo intorno alla riapertura di questo monumento più molto più che monumento Rocca Costanza a Pesaro c'è un'info notizia una foto notizia sul Corriere Adriatico che riguarda ovviamente il tema delle mucillaggini anche se quest'idea di continuare a metterle in prima pagina non mi sembra turisticamente una furbata personalmente però comunque diciamo che è una notizia non va sottaciuta, bagna in mare però niente rischi vedremo che c'è stata una polemica a distanza anche tra l'altro abbastanza forte sui social per quanto riguarda appunto questo tema sono tossiche, non sono tossiche vedremo l'approfondimento dalla sanità al turismo la regione c'è Martina Mariangeli che dedica a pagina 2 e 3 ma ci passeremo oltre tutto il futuro dell'attività regionale alla ripresa del dopoferie il problema del carcere in Messico per il pesarese che è stato arrestato e adesso c'è un problema una pagina intera dedicata da Luigi Venelli su questo episodio dal quale come sempre quando c'è un problema di questo genere è un po' difficile uscire un rievocativo a Fano per la visita il quarantennale della visita del Papa scavi sempre a Fano in Piazza Costa che sono stati richiusi allora c'è una polemica anche lì e poi appunto il richiamo a questi ciclisti che sono deceduti investiti da un'automobile allora come dicevamo a pagina 2, pagina 3 c'è tutto questo richiamo lungo e articolato su quello che farà e che dovrà fare la regione tutte le sfide della giunta a Quaroli nell'anno prima del voto insomma c'è un bel approfondimento articolato si va per temi dall'aeroporto alla sanità le sfide nell'anno prima del voto tra liste di attesa e atti aziendali vietato sbagliare insomma è da leggere è da leggere e da approfondire per capire come si muoverà e come dovrà muoversi la giunta regionale e la regione tutta dopo ferie a settembre quando ci sarà la ripresa delle attività e inizierà questo anno che precede il voto andiamo avanti ancora con il Corriere Adriatico arriviamo nelle pagine dedicate a Pesaro e come dicevamo appunto c'è questa paginona che è dedicata alla riapertura di Rocca Costanza Rocca Costanza diciamo quasi inutile da sottolineare di cosa si tratti comunque è uno dei punti nevralgici della città per quanto riguarda tutto il movimento tutto il traffico ed è un monumento molto più che un monumento è appunto una rocca storica della nostra città che da molti anni dal 2019 è stata chiusa per vari varissimi motivi ed è stato argomento di grande dibattito anche in sede di campagna elettorale riapriamola non riapriamola è la nostra non è la nostra non è la nostra cioè nel senso non è dell'amministrazione comunale ma grazie a una rete di accordi e di appunto meccanismi si è riusciti ad arrivare finalmente a una riapertura questa riapertura prevede una serie di visite secondo un calendario e la inaugurazione è stata fatta con una visita guidata c'erano una cinquantina di persone accompagnate dal sindaco Biancani e dal vice sindaco Vimini che hanno proprio fatto da Ciceroni tra l'altro facendo un giro ovviamente i due quotidiani poi vedremo anche il resto del Carlino si dedicano con attenzione un po' alle curiosità che cosa è stato visto che cosa è stato segnalato sottolineato chiaramente la fanno da padrona poi vedremo anche nel resto del Carlino l'occhiata alle due celle illustri perché Rocca Costanza fino al 1989 è stata anche carcere ma dal 1800 che era carcere forse dall'inizio del 1800 e due sono stati i più recenti in tempi recenti gli ospiti illustri uno è Vasco Rossi e l'altro Giopeis allora ovviamente Giopeis giocatore indimenticato della allora Scavolini Basket e allora è chiaro che l'occhiata alle celle questa è la cella dove si sta era Vasco questa è la cella la cella Giopeis destrano più di una curiosità ma c'è ben altro da dire da raccontare su Rocca Costanza mi sono segnato solo una cosa curiosa che mi diverte sempre il sindaco Biancani a un certo punto crea un ponte un contatto col comune di Gabice dice che chiaramente dal comune di Gabice potrebbe esserci un bel flusso di visitatori interessati e non so se è merito di Elisabetta Marsiglio o dello stesso Vimini questa cosa che a me fa sempre sorridere 6-700 mila turisti che tra 6-700 mila ci sono 100 mila turisti di differenza che non sono proprio come diceva Frassica all'epoca bruscolini allora vedremo poi dopo comunque leggete questo bel articolo di Elisabetta Marsiglio vedremo poi dopo anche sul Carlino che cosa dicono questa sera c'è una possibilità di visitare il Museo Oliveriano che si racconta in una vigilia di Ferragosto tra storia e archeologia alle 21.30 un appuntamento per i mercoledì di Via Passeri nei quali è incluso questo escursus archeo storico al Museo Oliveriano non sono frequentissime sapete che il Museo e la Biblioteca Oliveriana in questo periodo ma per un periodo abbastanza lungo sono oggetto di lavori di ristrutturazione per cui quando si creano queste opportunità è il caso di approfittarne tornando a Rocco Costanza c'è questa querelle diciamo già iniziale sull'idea che potrà essere utilizzata per spettacoli forse sì forse no diciamo che al momento si parla più di spazio per esposizioni l'idea è esposizioni mostre cose di questo genere sì invece spettacoli potrebbe essere un po' più difficile un po' più problematico bene andiamo avanti sull'alga cortocircuito politico addirittura politico che cosa è successo è successo che la ex candidata sindaca avvocatessa Perricci ha lanciato un grido d'allarme ha detto attenzione perché nell'adriatico che è un po' lungo l'adriatico un po' grande sono stati rilevati dei microorganismi tossici per cui dice facciamo le analgesi anche da noi e qualcuno ha detto le analgesi da noi vengono fatte per cui diciamo che lo scontro tra Vitri e Perricci è stato questo cioè Vitri diceva attenzione perché qui siamo alla soglia del procurato allarme non c'è nessun allarme stiamo parlando di un'alga tossica trovata a largo delle coste di Chieti e invece l'avvocatessa o avvocata non so Perricci sottolinea e dice sì ma l'adriatico non ha i confini sì ho capito ma anche il mondo e tutto il mare non ha i confini ma ci sono dei territori delle zone insomma c'è stato un bel leggere e controleggere nella giornata di ieri tra le due posizioni di fatto comunque anche il sindaco Biancani è entrato in gioco capisco che non sia piacevole vedere il mare torbido ma è bene attenersi ai dati ARPAM del resto quando si invocano analisi è evidente che le analisi vanno fatte da chi è autorizzato e abilitato a farle e l'ARPAM è l'ente certificatore se non ci si fida neanche dell'ARPAM a quel punto è inutile anche chiederle le analisi perché a quel punto di chi ci si deve fidare per cui la richiesta di analisi alla richiesta la risposta è stata sì sono state fatte dall'ARPAM che dice che è tutto a posto non c'è niente di tossico nel nostro mare poi è ovvio che questo mare è alla vista poco gradevole è ovvio che addirittura entrerci dentro non è piacevolissimo però ci sono dei parametri che definiscono la balneabilità la non balneabilità insomma ci sono diverse cose che vanno valutate e queste cose vanno non solo valutate ma certificate da enti certificatori e l'ARPAM è l'ente giusto che lo fa nel frattempo siccome il mare non è un granché scusate abbiamo un sorso perché siccome il mare non è un granché nel frattempo c'è il boom delle piscine e ovviamente ci sono tante richieste e qui questo titolo è un altro di quei titoli un po' che richiama l'attenzione il boom delle piscine le richieste sono troppe le piscine sono quelle e si rischia l'overbooking per forza di cose come tutte le volte che c'è qualche emergenza particolare e ci si sposta da un settore all'altro c'è il rischio naturalmente di arrivare a questi questi problemi di overbooking in quanto a emergenze siamo di nuovo a parlare di emergenza ambientale ed economica la regione e il governo devono sostenerci a dirlo è l'assessora Conti che chiede sostegni e anche in questo caso la sottolineatura è importante un bel articolo di Letizia Francesconi che sottolinea come ci sia comunque una cura e un'attenzione da parte delle istituzioni a fare tutte le mosse giuste per chiedere lo studio sul monitoraggio delle mucillagini il sostegno anche economico insomma le mosse si stanno facendo è ovvio che da un certo punto di vista i naturalisti a ogni costo possono comunque dire che in questo caso il fenomeno del mucillagine è un fenomeno naturale l'abbiamo ascoltato in più di un'occasione ancorché spiacevole a vedersi e a subire estradizione uniter lungo da tre a sei mesi per Mauro Ragnetti che è stato arrestato dopo una condanna diventata definitiva è stato arrestato in Messico e probabilmente il sistema carcerario messicano non è il posto migliore dove passare una pena e vabbè si stanno muovendo Luigi Veneli fa un bel approfondimento va a capire a cercare che cosa è successo perché è stato spiccato nei suoi confronti un mandato di cattura che poi è andato in porto con l'arresto ovviamente l'arresto presupponeva che lui fosse incarcerato dove è stato arrestato e adesso bisogna provare a portarcelo a casa cadono pezzi di intonaco dal palazzo della prefettura fortunatamente non è successo niente nessuno se li è presi in testa però sicuramente il posto non era marginale all'angolo tra Piazza del Popolo e corso 11 settembre e naturalmente non era un bel posto per vedersi cascare in testa dei pezzi di cornicione e di intonaco comunque dal palazzo della prefettura è stato tutto messo ovviamente in sicurezza nessuno si è fatto male e meno male Ferragosto la notte piccola le spiagge aperte fino alle 3 già ci aspettiamo per i prossimi giorni qualche polemica ma queste sono alcune poche pochissime una giornata all'anno voglio dire qualche piccolo piccolissimo sacrificio viene richiesto a chi magari potrebbe subire il rumore e i suoni fino a notte fonda le spiagge saranno aperte fino alle 3 oggi e domani in via di Trieste la deroga è a luna insomma si fa il possibile per da una parte lasciare spazio al divertimento e dall'altra non danneggiare la quotidianità di chi vive in quelle zone si procede ecco allora vedete a Urbino a Urbino c'è una 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 riflessione che nonostante ormai la giunta del Gambini Terzi sia insediata da due mesi nonostante questa novità di Urbino diventata capologo di provincia alla pari di Pesaro a tutti gli effetti e questo ha portato alla rappresentanza degli eletti raddoppiata da 16 a 32 la giunta da 5 a 9 nonostante tutto questo sembra di essere ancora in clima di campagna elettorale c'è ancora battaglia come se si dovesse ancora votare allora l'articolo va a intervistare Lino Michelli che è presidente del Consiglio Comunale il quale dice attenzione stiamo già lavorando ma chiedo a tutti di abbassare i toni perché è il primo a dire sono il garante della democrazia chiedo di abbassare i toni perché questo clima da campagna elettorale prolungata non giova a nessuno il Papa allora 40 anni fa Papa Vojtila tra i pescatori fanesi quando ci sono queste rievocazioni storiche ovviamente hanno sempre un grandissimo successo 40 anni anche e soprattutto perché chi vi partecipa ritorna indietro di 40 anni nella sua vita probabilmente questo è uno dei motivi per cui le maggiori le grandi celebrazioni hanno questo grande successo perché ognuno si risente giovane e si ricorda di com'era quella volta però qui il tema è molto importante oltre 700 persone a ricordo della visita del Papa testimoni immagini inedite insomma è molto vivo ancora il ricordo di questo evento che 40 anni fa ha visto la presenza del Papa a Fano e tutto questo è risultato evidente dal grande successo di questa rievocazione importante che si è tenuta appunto in commitanza con questo anniversario 12 agosto 1984 sempre a Fano gli scavi in Piazza Costa c'è una polemica perché dopo gli scavi e dopo tutto quello che si poteva ipotizzare che stesse succedendo questi scavi sono stati richiusi e qualcuno dice beh no non va bene non bisogna sentire solo i commercianti bisogna chiedere a esperti archeologi al comune bisogna cambiare rotta bisogna approfondire bisogna valorizzare a questa iniziativa hanno partecipato numerosi esponenti un'iniziativa pubblica nella quale sono stati sviscerati i vari temi qui vengono riportati alcuni dei partecipanti a questa iniziativa esponenti dell'ambiente culturale fanese De Santis padre Silvano Bracci Maurizio Sebastiani insomma parecchia attenzione parecchio movimento Zacchilli che ha sostenuto si ha l'impressione che siano state scavate delle trincee per posare tubi e cavi dei servizi primari mentre qua e là si vede solo qualche saggio archeologico insomma c'è attenzione da una parte polemica dall'altra però diciamo che forse polemica la famosa polemica costruttiva chissà lo vedremo lo vedremo andando più avanti intanto Fano in marcia verso Ferragosto con la sua manifestazione birra ad augusto stasera c'è questo gran finale poi per il capodanno d'estate che sarebbe poi Ferragosto vince la musica e qui ci sono tutti gli appuntamenti tutta la sequenza di appuntamenti che ovviamente non leggiamo perché se no ci trasformeremmo sostanzialmente in una specie di calendario di manifestazioni ce ne sono veramente dovunque sempre a Fano oggi Fano evidentemente tiene banco il sindaco Luca Sir Filippi si prende un impegno lo fa la vigilia di Ferragosto dice prendo l'impegno per il nuovo palazzetto e la riqualificazione di lungomare e centro linee programmatiche entro la fine del mese ovviamente deve preoccuparsi anche di quello non abbandoneremo le periferie insomma tiene sotto controllo tutto quanto e qui uno guarda e dice ma un'altra volta l'hanno ridetto invece no sono caduti i calcinacci anche dal cornicione a San Costanzo evidentemente questo tempo questa arsura che tra l'altro ci ha colpito anche la gula questa arsura evidentemente asciuga non lo so fa cascare i calcinacci insomma asciuga i sottotetti e da lì succede che poi cadono calcinacci dal cornicione transennata una zona del corso di San Costanzo paura nella notte fortunatamente è successo di notte non si è fatto male nessuno anche lì diciamo che va anche bene perché quando casca la roba dall'alto il rischio c'è perché chi è che cammina guardando in alto ovviamente nessuno qui ci sono queste due pagine tristissime ovviamente non le leggiamo prima di tutto perché non mi piace tra l'altro rimarcare e spingere su argomenti che sono già tristi di loro però però sono due pagine dedicate a questa coppia che si era sposata da poco appassionata dei bici li vedete qua e che sono stati in questo caso la parola è giusta falciati da questa macchina che ha perso il controllo e che li ha presi in pieno dopodiché è andata a sbattere anche contro altre macchine per cui adesso c'è da capire bene che cosa è successo a questo a questo automobilista dello sport parliamo dopo perché adesso passiamo al resto del Carlino e vediamo che la prima pagina appunto ha questa storia delle mucillagini carte bollate Rocca Costanza che torna a emozionare mancano posti per anziani a Fano in lista sono oltre 200 a Ferragosto concerti e feste c'è una pagina piena che se cercate qualcosa da fare a Ferragosto dovete prendere per forza la copia del giornale e cominciare a fare la spunta perché c'è una pagina pienissima poi ve la faccio vedere e poi ci sono due richiami sportivi WL e Vis Ex Amga e la prefettura e poi la coppia di ciclisti tra volte uccisa questa è la prima pagina del resto del Carlino bevo ancora con la tazza di Rossini TV bellissima e vado a Rocca Costanza mi sono segnato qualcosa in più correva l'anno 2019 l'ultima estate con qualche turista nel cortile di Rocca Costanza sono stati fatti anche degli eventi con la necessità poi di ridurre la portata insomma ci sono tante diverse cose due le chicche emerse la prima Biancani ha individuato la cella vi dicevo che ha ospitato Vasco Rossi tra l'altro con la battuta quando l'hanno liberato c'era una Ferrari gialla fuori boh non lo so io non mi ricordo però mi ricordo che si passava si passava lì sotto per vedere se Vasco si affacciasse ma è chiaro che non si poteva affacciare la seconda le celle di isolamento redemolite dove ha soggiornato Joe Pace diciamo che sono due punti da attrazione molto 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 marginali molto 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 relativi voglio dire Rocca Costanza è ben altro però il richiamino è quello e nelle intenzioni dell'amministrazione qui il sindaco Biancani si sbilancia a vedere se è possibile utilizzare gli spazi per alcune iniziative di tipo culturale rimane sul generico poi dopo nello specifico il vice sindaco Vimini spiega c'è più mostre più esposizioni più esibizioni piuttosto che eventi veri e propri perché probabilmente per gli eventi c'è un problema il problema è l'uscita di sicurezza e fare un'uscita di sicurezza in un muro perimetrale di una rocca non è una cosa cioè come fare una galleria è come rifare la galleria insomma del furlo per dire e allora c'è una bella battuta virgolettata che ho ripreso uno storico presente ieri dice non risulta a nessuno che vi siano stati mai incendi all'interno e altri problemi del genere nemmeno quando venne messa sotto assedio delle truppe del generale Saldini come dire insomma è vero che la legge impone l'uscita di sicurezza in caso di incendio però insomma andiamo anche un po' sullo storico però è chiaro che non si può prescindere dal mettere tutto a norma e di conseguenza vedremo vedremo come si potrà fare anche se poi alla fine qui si fa anche un numero forse al massimo 200 persone insomma l'importante è che Rocca Costanza è stata riaperta e che da questo momento in poi sarà possibile non solo visitarla ma anche pensare a degli utilizzi e questo è molto molto importante credo che sia la vera importante notizia più delle bucillaggini direi allora Ferragosto tra musica e giochi vedete questa è la pagina di cui vi parlavo Ferragosto tra musica e giochi concerti Gabice e Marotta c'è anche l'arte giochi storici c'è veramente di tutto Pesaro, Gabice Gradara Fano Marotta San Lorenzo Urbino Carpegna spiegato tutto fin nei minimi dettagli insomma se avete bisogno di decidere e di sapere cosa fare sapete anche dove andare a pescare e a leggere in piena stagione arriva in fuori il rebus dei concessionari dei concessionari dei concessionari di spiaggia perché? perché i balneari hanno ancora questa spada di Damocle addosso con la Bolkestein non si sa come si fa arginare questo provvedimento questa legge europea e allora questa direttiva questa direttiva europea la famosa direttiva Bolkestein il punto con i rappresentanti di categoria dopo che il governo sembra sempre più in difficoltà ad arginare la Bolkestein chiaramente è una direttiva europea insomma il governo ha promesso che l'avrebbe bloccata ma non è che sia una roba proprio così semplice Andrea Giuliani di Confartigianato andremo in regione solo che sai regione l'Europa non è facile qui c'è tutto un approfondimento su quello di cui abbiamo parlato prima sulla querelle tra la avvocatessa avvocatessa Pia Perricci e la consigliera regionale Michela Vitri con il discorso appunto delle alghe tossiche non ci sono alghe tossiche nella nostra città questo lo ribadiamo ancora nel mare della nostra città non sono state rilevate ci sono altre alghe ma non sono tossiche e naturalmente l'abbiamo detto e ridetto più e più volte non è bellissimo ma io mi asterrei dal vendere diciamo pubblicamente solo il fatto che ci siano le mucillagini pesano anche come diceva qualcuno ieri molto molto altro per cui si può benissimo anche evitare di evidenziare e basta solo questo fatto delle mucillagini ma è un parere mio personale non punterei la comunicazione turistica sul fatto che pesano le mucillagini ecco non mi impegnerei in questo casa Rossini in vendita panico e poi in realtà è una casa privata a Bologna in centro Bologna costa un milione e mezzo l'annuncio di una nota agenzia immobiliare questa è una casa pensate che storia bella il maestro l'ha acquistata nel 1822 300 metri quadri scala elicoidale per il piano nobile portone scenografico e l'aveva acquistata per i genitori voleva ospitarci i genitori e la moglie ma poi il padre è morto lui ha venduto la casa e insomma questa casa adesso è di un privato che la vuol vendere a un milione e 480 mila euro se volete comprare a Bologna una casa dove che è stata di proprietà non solo dove ha abitato perché poi dopo Rossini è andato a abitare da altri sempre a Bologna però quella era proprio stata la sua se volete comprare la casa di Gioacchino Rossini che l'ha posseduta a Bologna vi è rimasto fino al 1839 mettete via aprite il salvadanaio e trovate questo milione e mezzo che può essere utile per credo per per cominciare l'acquistare perché mi dà l'idea che una casa del genere poi il problema non sia tanto l'acquisto quanto il mantenimento 300 metri quadri scalone eccetera lago di Mercatale rebus idrico c'è l'emergenza ma siamo pronti parla il presidente del consorzio mette tutti al sicuro cioè si mette al sicuro e dice il vero obiettivo della politica è mettere le mani sul burano noi siamo tranquilli nella crisi idrica anche l'invado di Mercatale di Sasso Corvaro è finito al centro ma c'è chi parla in libertà a un certo punto questo avvocato Claudio Netti attuale amministratore di Bonifica Engineering società di progettazione del consorzio di Bonifica rispedisce le critiche e gli allarmi al mittente e dice sono state spese parole in libertà non basta aver tenuto l'ombrello Mariano Rumor vabbè fa riferimento a Marcello Rivalta per assicurarsi il titolo di persona competente insomma c'è un po' di polemica su questo avete visto già sul Corriere Adriatico abbiamo parlato della prefettura il tetto perde pezzi i calcinacci cadono lungo il corso paura ieri mattina in piazza del popolo ex AMGA evitata la beffa meno male è intervenuto il tribunale perché per la procedura burocratica era partita le richieste di 200 mila euro di IMU ai proprietari alla società proprietaria dell'area ex AMGA che naturalmente adesso tutto vuol fare meno che pensare a pagare l'IMU visto che l'area è oggetto di grandi contestazioni di grandi bonifiche e tutto il resto per cui è ovvio che il giudice fortunatamente capisce e annulla tutto e la cosa rientra ma la richiesta effettivamente era arrivata hanno avuto ragione quelli della società Arcovallato che detiene il 54% della proprietà e che aveva detto no a questo pagamento dell'IMU allora si va velocemente verso una conclusione ma prima abbiamo questo discorso dei reperti interrati in piazza costa a Fano ci ascoltano solo i commercianti ci ritorno perché c'è sul resto del carlino l'elenco di tutti di tutte le persone coinvolte o comunque che hanno espresso pareri su questo tema e la cosa divertente è che ci sono ovviamente alcuni personaggi esponenti di attività culturali di associazioni culturali Archeoclub Università dei Saperi Università dell'Italia Circoli Culturali Pertini Gramsci e poi singoli cittadini e c'è un elenco lunghissimo di nomi e cognomi di singoli cittadini una colonnina di elenco c'è questo a sottolineare che c'è come posso dire molta attenzione da parte della cittadinanza fanese nei confronti di questa area si valuti bene il valore dei prossimi ritrovamenti sulla questione ambulante andavano trasferiti insomma dice vogliamo sapere vogliamo sapere cosa c'era sotto vogliamo sapere se in quell'area passavano il cardine massimo cos'altro c'era in quello spazio insomma i cittadini i fanesi non si accontentano della situazione vogliono approfondire e anche qui si parla della commemorazione dei 40 anni alla visita di Papa Giovanni Paolo II vi ho fatto già il richiamo sulle strutture anziane oltre 200 sono in lista d'attesa sono più di 200 gli anziani non autosufficienti in lista d'attesa per entrare nei centri residenziali fanesi e naturalmente è ovvio sto per dire una banalità quando si parla di anziani non autosufficienti si parla di famiglie questo è il focus e il motivo per cui questa è una notizia da tenere comunque monitorata torre di 34 metri nel parcheggio questo succede a Monteporzio e questo problema delle antenne ragazzi è irrisolvibile antenne che vengono concordate e vengono piazzate magari come in questo caso concordate da precedenti amministrazioni e poi le amministrazioni che si insediano si trovano all'azienda che arriva e tira sull'antenna 34 metri per un'antenna con 5G dicono malumori a Monteporzio però poi quando non prende il telefono i nostri malumori sono sempre di più allora Urbino l'esercito dell'Aita si allarga la Spagna io mi sono domandato subito che cos'è questa Aita o Aita non lo so come si dice è uno sport è uno sport rievocativo Gianluca Ceravolo che è il capitano dei Blu forse ogni anno avremo giocatori da Cadice lo scontro è duro ma siamo tutti amici vorrei dire che non fossimo tutti amici in uno sport che rievoca sì delle epoche nelle quali insomma non si scherzava però lo si fa adesso insomma e addirittura si va verso un gemellaggio con la Spagna con questa squadra e questa città e la Sardegna insegna qui c'è anche qui un tema ricorrente che torna Urbino vuol diventare provincia autonoma a detta di alcuni Urbino provincia autonoma fattibile e necessaria addirittura dice Giorgio Londei fare la provincia di Urbino non è impossibile lo dimostra il caso Sardegna dove nasceranno ben otto province per cui se le fanno in Sardegna dice Giorgio Londei si può fare anche Urbino vedremo vedremo se Urbino sarà provincia autonoma siccità solo il 60% dell'acqua attesa aumentano i giorni caldissimi ragazzi qui il tema è quello insomma 80 anni dal 1850 quando hanno cominciato praticamente a monitorare le temperature e il 1930 abbiamo avuto 10 massime oltre i 35 negli ultimi 35 anni sono ben 86 lo scorso mese di luglio ho visto 24 giorni con temperature sopra i 30 11 sopra i 35 insomma qui numeri sparati a mille per dimostrare che cosa sostanzialmente per dimostrare che è un gran caldo e questo qui lo abbiamo già scoperto e capito è caldo e aspettiamo tutti le prime famose piogge e speriamo che siano solo piogge perché poi quando arrivano arrivano e devastano allora qui le sfoglio così guarda chiedo alla regia di fare l'inquadratura grande e io sfoglio e vi faccio vedere allora si accende Ferragosto del club Bob Sinclair sfera e basta bentornato al palio del Daino tuffo a ritroso nel Medioevo a Mondaino la cavalcata dell'assunta tra drappi cortei e giochi storici a Fermo è un po' fuori dalla nostra provincia ma insomma ci si arriva facilmente la caccia al cinghiale a Mondavio giochi acrobatici musica storica tra l'altro tutte cose di cui ci siamo occupati anche nei nostri TG avete visto interviste insomma sapete tutto e poi naturalmente tiene Banco Rossini Opera Festival Bianche Falliero Capolavoro ci sono delle belle critiche importanti e favorevoli alla edizione 2024 del Rossini Opera Festival grande successo i concerti di Bel Canto funziona tutto benissimo e naturalmente siamo tutti contenti un ultimo cenno prima di passare allo sport alla 50x50 che è sapete la diciamo il programma parallelo ma è integrato più che parallelo a Pesaro Capitale della Cultura ovvero durante tutto l'anno 2024 di Pesaro Capitale della Cultura a turno comuni i comuni della provincia sono a loro volta capitali ma a questa settimana c'è una particolarità perché a essere capitale insieme a Pesaro non è un comune ma è la gola del furlo la gola del furlo è la località forse tra le più famose di tutto il nostro territorio e diventa appunto fulcro di questa settimana con una serie di iniziative il valore speciale di questa proposta è una settimana apparentemente atipica rispetto al metodo di 50x50 perché non abbiamo un comune protagonista coinvolte sono ben cinque amministrazioni e tutto è incentrato sul racconto natura-cultura lo dice Daniele Vimini Maurizio Bartoli direttore della riserva naturale spiega la riserva racchiude una ricchezza di biodiversità tanto da essere stata riconosciuta nel 2001 riserva statale direttamente dal Ministero dell'Ambiente insomma anche qui calendario articolato andate a vedere andate a cercare e partecipate alle iniziative della settimana di capitale 50x50 che vede la gola del furlo protagonista allora andiamo velocemente e questa volta sta a vedere che riusciamo a stare anche nei tempi a dare un'occhiata alla situazione del calcio e del basket insomma gli sport principali che interessano in questo periodo i nostri ascoltatori i nostri tifosi Vis Stellone potevamo anche rimediare senza l'espulsione di Neri la partita era recuperabile lo so però invece abbiamo verso il Coppa Italia contro l'Arezzo la Vis comunque si presenterà giovedì 22 agosto alle 18.30 allo stadio Benelli ieri intanto Di Paola ha lavorato a parte senza palla mentre Obbi era assente Stellone ha insistito sulla difesa sollecitata in situazioni di inferiorità numerica c'è una piccola analisi sulla partita persa eravamo partiti bene contro un avversario che aveva qualità abbiamo regalato un fallo laterale sul gol è andata così ma adesso concentriamoci sul campionato il Fano il Fano Calcio ha un partner internazionale ufficiale della collaborazione con K-Sport o K-Sport non lo so l'azienda che collabora con Real Madrid Milan Juve Argentina fornirà la propria tecnologia anche alla squadra Granata il circuito è interessante per cui vediamo di meritarci e di far bella figura lo dico ai dirigenti di Fano Sport poi l'AVL c'è la nostra Elisabetta Ferri che ha raccolto una bella intervista con Michele Maggioli da sei anni appeso le scarpe al chiodo ma è una persona ritenuta da Elisabetta Ferri quella giusta per parlare di A2 perché dice se c'è un pesarese che conosce la serie A2 con esperienza sul campo questo è Michele Maggioli incoronato per tre volte giocatore di maggior valore in un campionato in cui ha militato per oltre un decennio per cui praticamente chiede come va e lui dice la vedo come Valerio parla di Valerio Boianchini sono anche sono anni che dico che è la 2 più tecnica della serie A anche per forza di cose il minor atletismo spinge i giocatori a usare tecnica e tattica per farsi valere questo è un concetto abbastanza argomentato ben argomentato avere due esterni americani ti dà pericolosità sotto non c'è bisogno di essere enormi e poi bellissima la conclusione perché dice rivalità ce ne saranno per divertirsi anche senza Milano e Virtus assolutamente con Fortitudo a Rimini saranno partite calde ma soprattutto c'è molta tradizione cestistica in questa 2 con palazzetti pieni e tanta passione anzi è bella la conclusione mi è venuta voglia di tornare al Palace dice Maggioli è bello bello perché crea la giusta atmosfera la 2 la 2 non ha niente di meno e siamo tutti pronti a seguire le vicende della VL Tomassini Pinto che è i primi alla nutata longa la nutata longa che è una classica in mare a Fano è vinta nella classica da due pesaresi di Sport Village e Banca di Pesaro bene anche la categoria Master con Antonella Montagna che vince la M60 gli atleti e le atlete di Sport Village alla nutata longa fotografia articolo nomi classifiche e tutto quello che può servire e incuriosire vediamo in conclusione anche le pagine del Corriere Adriatico dedicate allo sport che però si discosteranno di poco e nulla come vedete anche qua vado indietro ma anche qua tantissimo dedicato agli spettacoli VL conto alla rovescia la Carpegna Prosciutto si prepara per la nuova stagione raduno domenica 18 agosto si lavora sui dettagli questo prima mentre lo leggevo è sempre un bel segnale vuol dire che il grosso è fatto quando si lavora sui dettagli vuol dire che il grosso è fatto tutto pronto adesso si va di rifinitura in casa VL in vista del inizio del ritiro precampionato che prenderà il via domenica 18 agosto ovviamente in Carpegna visto che la VL è Carpegna Prosciutto Mirko Faccenda firma questa intervista con Stefano Sacripanti tanti approfondimenti tante visioni e tante prospettive scattano gli abbonamenti per la Megabox ovviamente Reduce con Gaia Giovannini dalla medaglia d'oro a Little Volley femminile per cui grande orgoglio grande vanto e poi abbiamo poco altro per cui a questo punto stiamo andando velocemente verso la conclusione e anche per la Vis ovviamente hanno fatto lo stesso ragionamento anche sul Corriere Adriatico Koma pensiamo solo al campionato mister Stellone era ammaricato dispiace per il risultato ci tenevamo molto a passare il turno però insomma è andata così con l'uomo in meno i ragazzi hanno dato buoni segnali sul piano fisico insomma bene fanno calcio si prepara partnership con Key Sport e ci siamo abbiamo fatto e abbiamo concluso nei tempi giusti questa volta di solito arriviamo sempre un po' lunghi ricordiamo che domani c'è Ferragosto e ci sarà la rassegna ci sarò io di nuovo ovviamente già attrezzato con la tazza dell'acqua perché evidentemente c'è qualcosa o sull'aria o sull'orario non lo so che ogni tanto mi ferma la voce in gola ma io sarò presente e saremo noi presenti come Rossini TV con la lettura dei giornali che domani escono mentre ricordiamo che non usciranno il 16 per cui non ci sarà il 16 la rassegna per cui domani c'è la rassegna ma non i TG il 16 cioè dopo domani ci sarà non ci sarà la rassegna ma ci sarà ovviamente invece il TG questo è per non lasciarvi mai scoperti nessun giorno dalla informazione e adesso vediamo quali sono i programmi della serata prima di lasciarvi e vediamo che questa sera alle 21.20 ci sarà il nostro speciale girato in occasione del grande evento dell'estate Candele sotto le stelle perché ricordiamo che è vero stiamo parlando del Ferragosto ma è appena passata un anticipo di Ferragosto straordinario Candele sotto le stelle grande grandissimo successo che verrà testimoniato da questo speciale di Rossini TV e poi vediamo alle 21.40 invece un altro evento importante è la camminata sotto le stelle escursione storico culturale musicale che si è tenuta nei giorni scorsi a Tavuglia due speciali assolutamente da non perdere nel fresco dell'aria condizionata della vostra casa perché probabilmente in tanti prima di uscire vorranno starse un po' al fresco in casa e ecco qua che Rossini TV vi propone cose molto interessanti da vedere reportage dall'esterno questo è il trucco insomma per non mollare mai la sintonia dal canale 80 oppure seguirci naturalmente se siete invece in giro con la nostra app gratuita che potete scaricare con la quale potete vedere le dirette e tutto quello che è inerente alla nostra attività abbiamo anche tutte le retrospettive sui programmi insomma scaricatele andate a cercare sia su Google che sull'App Store sull'App Store andate direttamente e scaricatele è gratuita una volta che ce l'avete svisceratele vedrete che diventerà indispensabile e naturalmente potete anche seguirci dal sito dalla pagina social dalle nostre pagine social in particolare dalla pagina Facebook insomma non avete alibi per dire che non siete riusciti a vedere qualcosa nella programmazione di Rossini TV allora vediamo se mi sono perso o se posso arrivare alla conclusione credo che non ci sia altro per cui posso concludere e ringraziando tutti per essere stati naturalmente con noi anche questa vigilia di Ferragosto e dandovi appuntamento in questo caso sì non solo come emittente ma anche personalmente a domani mattina alle 7.20 e rinnovando l'invito a restare sul canale 80 di Rossini TV buona giornata e preparatevi al miglior Ferragosto che possiate vivere grazie a tutti e arrivederci a presto grazie a tutti